Da Laura di Roma che dice Ho visto che sei tornato un po' al vecchio amore Il tuo album, anche se non si può definire rap, contiene molte rime Pensi che nel futuro di concentrarti su un album hip hop Visto che sta anche tornando? Baci Laura Guarda, io se farò un album hip hop Devo aspettare che non vada più di moda Perché se no non mi sento di essere quello che segue la moda Il bello di fare quello che faccio adesso È che non devo più rispecchiare in un album lo stesso genere Quindi sì, lo farò Anzi, questi giorni sto scrivendo un pezzo che mi è uscito completamente rap Come snob, sì ma non è un problema Anzi, penso che nel mio futuro ce ne sarà ancora tanto di rap Perché è quello che praticamente è il genere che mi ha insegnato a fare musica Ma non ci sarà solo questo Poi non ho mai chiuso con il rap Io ho chiuso con i rappers, è diverso